ciao dall'italia ciao da casa uiv la casa di chi ama la lingua italiana la casa di chi vuole vivere in italiano la casa di chi vuole parlare ancora dei saluti perché è importante sapere che cosa dire alle persone con cui si sta interagendo un commento di sharon arrivato nelle scorse ore mi ha fatto capire che un passaggio del video precedente su buonanotte non è abbastanza chiaro sharon ha scritto quando sto partendo a luna di notte quando sto partendo per un viaggio ma forse tu volevi dire quando sto andando via quando sto lasciando un posto quando sto andando via andare via andare via andare via quando sto andando via a luna di notte direi ciao o arrivederci o forse proprio buona spazio serata perché non so se gli altri stiano andando a dormire è vero sharon ma noi e questa è la cosa poco chiara del video di prima quando parlavamo del buonanotte ci riferivamo all'inizio della conversazione ho usato il plurale non come plurale maiestatis per darmi particolare importanza ma perché volevo comprendere anche gabriele che ha un'idea diversa dalla mia io non direi mai buonanotte all'inizio di una conversazione che avviene che si svolge dopo la mezzanotte certamente come dici tu alla fine di una conversazione quando si va via è possibile dire ciao è possibile dire arrivederci l'unica cosa che non direi a luna di notte buona serata perché perché la serata è finita quindi non avrebbe senso augurare buona serata di notte se siamo all'interno dell'autogrill l'autogrill è l'unico mio punto di riferimento per le interazioni notturne perché io non ho vita notturna allora a quelle persone che stanno lavorando posso dire buon lavoro alla fine della della conversazione quando sto andando via buona continuazione tante cose ma all'inizio che cosa dico io non dico buonanotte gabriele sì io dico salve anche se a tanti italiani non piace colgo l'occasione per rispondere anche a veronica che mi ha scritto un commento e ha iniziato il commento con un bellissimo salve rivalutiamo questo salve che a tante persone di madrelingua italiana non piace per niente salve salve roberto è un modo formale per salutare qualcuno salve veronica ma buona nottata esiste mi chiede veronica e in quel caso per cortesia cioè veronica vuoi sapere se buona nottata esiste e se è usato in un contesto formale allora il sostantivo nottata esiste così come esistono mattinata giornata serata esiste anche nottata è possibile concludere una conversazione di mattina con un bel buona giornata buona mattinata no buona giornata sì da un certo orario in avanti il buona giornata diventa un buona serata buona nottata boh è un po strano non lo direi a luna di notte per chiudere una conversazione e neanche alle due alle tre non lo direi proprio buona nottata assomiglia troppo a buona notte che si dice solo quando una persona va a letto ormai lo abbiamo capito gabriele ma tu quando entri all'autogrill a luna di notte dici buonanotte al tuo interlocutore buonanotte è troppo strano è troppo strano buona nottata no uso i saluti che ha indicato sharon ciao per un amico arrivederci apro una parentesi che differenza c'è tra arrivederci e arrivederla quasi nessuna tutti e due appartengono ai saluti della forma di cortesia arrivederci come via di mezzo tra ciao e arrivederla ma quando mai chiedo ancora una volta alle persone di madrelingua italiana è una domanda non retorica ma caro amico cara amica di madrelingua italiana tu a un amico dici arrivederci alla fine di una conversazione io non ho mai detto arrivederci a un amico in tutta la mia vita certo poi a un amico posso anche dire sua eccellenza ma per ridere nel saluto arrivederla c'è tutta la forma di cortesia che viene esaltata da questo pronome personale complemento diretto terza persona singolare femminile lei quel lei della forma di cortesia quando io do del lei arrivederla però in questo caso mettiamo la l maiuscola nella forma scritta se proprio vogliamo usare questo arrivederla arrivederci è un saluto formale in cui non è evidenziata la forma di cortesia con questo pronome personale però siamo sempre nei saluti formali in tutta la forma di cortesia nel plurale non c'è differenza tra il tu e il lei io al singolare dico come stai a un amico come sta a una persona a cui do del lei al plurale io dico come state ai miei due figli e dico come state la stessa cosa al papa il presidente della repubblica se mi rivolgo a loro due insieme non c'è differenza quindi non deve stupire il fatto che nel saluto arrivederci non c'è più nessun riferimento alla forma di cortesia ma ritorniamo alla domanda di veronica ho risposto a veronica sì ho detto che buona nottata ha senso perché nottata esiste buona nottata alla fine di una conversazione così come buona giornata e buona serata si dicono proprio nel momento finale buona nottata non lo direi come alternativa buona notte e non lo direi come saluto finale no se lo dici si capisce una persona sta lavorando fa il turno di notte io so che sta andando a lavorare buona nottata ma no direi buon lavoro no buona nottata mi suona male è molto strano per me e spero di aver chiarito il fatto che mi rivolgo a sharon adesso che nel nostro dubbio tra salve e buona notte ci riferivamo all'inizio della conversazione non alla fine grazie mille grazie di avermi ascoltato resto a disposizione per tutti gli eventuali altri dubbi viva i dubbi viva le amiche e gli amici di casa uivi ciao